Luigi Volume è il nuovo responsabile dell'area tecnica della Virtus Matino. Dopo le dimissioni di Massimo Alemanno, la società del presidente Cristina Costantino ha deciso di puntare sull'ex direttore sportivo, tra le altre, di Matera, Taranto e Castellaneta. Proprio dal club bianco-rosso, Volume potrebbe portare con sé alcuni calciatori, si parla di D'Andrea, Giannotta e di alcuni argentini che fin qui hanno trascinato l'organico di Dalena in terza posizione nel girone B di eccellenza. In uscita invece ha salutato anche il centrocampista Marin, ufficialmente approdato nel girone G di Serie D al Gladiator. Per volume una missione ardua, il Matino è ultimo in classifica, con appena 9 punti conquistati. La zona play-out dista 5 punti, ma è altrettanto vero che servirà a mettere a disposizione di Toma, gente di categoria, che possa innalzare il tasso di esperienza di un gruppo di prospettiva, ma che in questo girone d'andata è mancato proprio sul fronte della continuità.